bentornati amici catolici torna il format che piace al grande pubblico ovvero che fine hanno fatto in questo video parleremo di un telefilm amatissimo almeno stando alle visualizzazioni del video che gli ho dedicato andiamo quindi a scoprire com'è proseguita la carriera degli attori che hanno prestato il volto ai personaggi di uno dei più irriverenti telefilm degli anni 70 ovvero Samford and Son ma tutto questo solo dopo che è finita la sigla partiamo con il mattatore assoluto della serie attore straordinario quanto problematico ovvero il solo ed unico red fox prima di iniziare però è bene fare una premessa fox ha sempre avuto un rapporto controverso con il denaro dalla parte non ne aveva un gran conto spendendo cifre folli e regalando patrimonio a chi gli chiedeva soldi in prestito dall'altra parte a causa di questa sua gestione di senata del denaro si era sempre trovato con l'acqua alla gola e pieno di debiti soprattutto con il fisco cosa che lo ha portato a fare scelte professionali quasi sempre improntate su molti maledetti e subito questa necessità di guadagnare sempre montagne di dollari per tappare voragini sempre più grandi ha finito per limitare la potenzialità di uno dei comici più straordinari e talentosi degli anni 70 ma questo è solo il mio parere fatta la premessa iniziamo lasciata la serie all'apice del successo per un'offerta estremamente vantaggiosa ovvero il red fox comedy hour prodotto dalla amy si nonostante e probabilmente a causa del fatto che il varietà televisivo era avanguardia pura nel palinsesso televisivo dell'epoca qualcosa che non si era mai visto tenete conto che con lui al programma collaborò perfino handy kofman gli ascolti non decollarono mai e la abc lo chiuse dopo solo cinque mesi dopo questa esperienza fallimentare è tornato ad esibirsi a las vegas rispolverando il suo repertorio che lo aveva reso famoso prima di sanford and son nel 1980 torna in tv riprendendo il suo vecchio personaggio ma senza il cast originale che si era rifiutato di lavorare con lui accusandolo di aver ammazzato una serie di successo lasciando tra le altre cose per strada un certo numero di colleghi solo esclusivamente per soldi da solo quindi e senza nessuna delle storiche spalle e soprattutto orfano di damon wilson fox fece l'ennesimo buco nell'acqua nel 1986 ci riprova con the red fox show e anche questa volta prende l'ennesimo palo il telefilm va malissimo e viene chiuso dopo solo 13 episodi a rilanciare la sua carriera è eddie murphy che lo vuole in harlem nights film che non ha sbancato al botteghino ma ha permesso all'attore di mettere in lucio le sue straordinarie abilità attoriali grazie alla pellicola e a un accordo tra eddie murphy e la cbs torna in tv con una nuova sitcom the royal family dove interpreta un postino prossimo alla pensione che deve far fronte alla visita inaspettata e ingombrande della figlia che si piazza a casa sua a tempo indeterminato la serie parte con il botto e sembra destinata a riportare fox tra i grandi della tv durante la registrazione dell'ottavo episodio però accade quello che la quello che è l'aneddoto più curioso e al contempo più triste della vita del comico americano la cosa secondo la ricostruzione dei presenti è andata più o meno così durante una pausa tra un cambio di scena e l'altra fox stava rilasciando un'intervista a un giornalista dell'entertainment tonight probabilmente l'intervista si era protratta un po troppo a lungo tanto che un produttore furibondo arrivò e prese per un braccio l'attore con l'intento di portarlo sul set beh se il gesto del produttore vi sembra eccessivo sappiate che fox era estremamente problematico durante le riprese e se poi il progetto aveva successo beh moltiplicate il tutto per almeno mille sta di fatto che ne nasce un alterco che però si calma subito fox gira la scena e appena il regista chiama lo stop l'attore crolla a terra inizialmente tutti ridono pensando che come sempre stia imitando lo sketch più famoso della sua carriera ma passano pochi secondi e visto che l'attore non si rialza della reese che stava recitando la scena con lui si china e con grandissimo orrore scopre che fox non stava affatto fingendo viene rianimato ma purtroppo muore quattro ore e mezza dopo per un secondo arresto cardiaco dopo fox mi pare che sia necessario parlare della sua spalla nel telefilm ovvero il già citato demon wilson che nel telefilm era il figlio lamon dopo la fine del telefilm demon all'apice della sua fama viene scritturato come protagonista di una nuova sitcom intitolata baby i'm back telefilm che racconta le vicende di un giocatore compulsivo che abbandona la famiglia per sette anni facendo perdere le sue tracce dopo questo lungo lasso di tempo si rifà vivo quando scopre che è stato dichiarato legalmente morto e che la moglie è in procinto di risposarsi il telefilm non fece il botto ma gli ascolti furono più che discreti purtroppo norman lear si mise di mezzo volendo fare una sesta ed ultima stagione di good times ha negoziato con la cbs un accordo che prevedeva che lui producesse un nuovo telefilm per la rete per lasciare quindi spazio a questo nuovo prodotto la rete sacrificò appunto baby i'm back che non venne rinnovato per una seconda stagione dopo questa deludente esperienza nel 1983 ci riprova con the new old couple versione afro della commedia di neil simon la serie non ha mai brillato per ascolti anche perché gli sceneggiatori con una scelta molto molto discutibile hanno riciclato sceneggiature del telefilm degli anni 70 per capirci proprio quello con tony randall e jack klugman quando hanno capito che il pubblico voleva qualcosa di diverso di una copia malfatta di un telefilm di dieci anni prima e quindi hanno iniziato a proporre sceneggiature originali oramai la frettata era fatta e con il diciottesimo episodio la serie ha trovato la sua conclusione dopo questo ennesimo stop wilson si è quasi ritirato dalle scene apparendo solo in pochissimi telefilm come guest star di contro ha iniziato una prolifica carriera come scrittore sia di saggi a tema cristiano o new age sia come scrittore di libri per bambini carriera che porta avanti ancora oggi dopo damon wilson passiamo alla straordinaria e strabordante lavanda page amica da sempre di red fox che ha preteso la sua presenza nel telefilm dopo la fine di sanford and son ha continuato con lo stesso personaggio in sanford arms disperato tentativo di tenere in vita la serie dopo l'abbandono improvviso di fox purtroppo come abbiamo detto anche nel video dedicato al telefilm andatevelo a cercare nel canale sanford arms anche se popolata da tutti i comprimari della serie non è riuscita a catturare il pubblico venendo chiusa solo dopo quattro puntate quando nel 1980 fox in cerca di soldi come sempre accetta di tornare a vestire i panni di fred lavanda è l'unica del cast originale che accetta di tornare a interpretare il suo vecchio ruolo la serie come abbiamo detto fu un grandissimo flop che nemmeno la presenza di un caratterista come lavanda page fu in grado di risollevare dopo questo solo sporadiche apparizioni come guest star in serie tv e ruoli minori in vari film il suo ruolo più importante è un personaggio ricorrente nella serie martin dove interpreta evelyn lavanda è morta nel 2002 a causa di un infarto causato dal suo diabete dopo lavanda altra donna di spessore ovvero lynn emilton che nel telefilm era la fidanzata di lamon ovvero donna harris dopo la fine del telefilm anche lei come moltissimi attori è comparsa in decine di serie come guest star i ruoli più importanti sono il personaggio ricorrente di verdi grant foster nella famiglia americana e del giudice fulton in the pratics piccola curiosità per anni è corsa la voce che lynn fosse la sorella minore di lavanda beh è una notizia falsa dovuta al fatto che lavanda ha effettivamente una sorella omonima dell'attrice e ora passiamo a quello che è il mio personaggio preferito della serie ovvero grady wilson al secolo whitman mayo quando fox abbandonò temporaneamente la serie per motivi contrattuali fu lui a fare da spalla damon wilson dimostrando che la serie reggeva bene anche senza il suo personaggio principale dopo questa incredibile prova attoriale venne creato uno spin off dedicato proprio al suo personaggio intitolato a grady la serie però non ebbe il successo sperato e fu chiusa dopo solo 10 episodi e whitman tornò alla serie madre senza colpo ferire l'unico ruolo di rilievo in tempi recenti è quello del personaggio ricorrente in una sitcom del canale via cavolo via cavo nickelodeon la sitcom si intitola canon and kell dove lui interpreta lo zio dei protagonisti lasciata la recitazione attiva è diventato un insegnante nella clark atalanta university è morto nel maggio del 2001 altro personaggio che mi faceva sbellicare delle risate era julio fuentes il vicino portoricano dei sanford gregorio sierra l'attore che lo interpretava dopo la fine del telefilm ha avuto una carriera incredibile prima ha interpretato il sergente chano amengual nella sitcom barney miller dopo aver abbandonato la serie è entrato a far parte del cast della serie a e s houston street nei panni del dottor tony manzia la serie però non ha avuto successo ed è stata chiusa solo dopo 5 episodi il sonoro più clamoroso però è quello di carlos el puerco valdez rivoluzionario latino americano della sitcom soap nel 1984 fa parte del cast originale di miami vice nel ruolo di lui rodriguez lascerà la serie dopo solo quattro puntate perché non voleva trasferirsi a miami in quel caso verrà sostituito da edward james olmos dopo questo ha recitato in numerosissimi film anche per questa volta è tutto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi se volete supportarmi è possibile abbonarsi al canale se lo farete tra le altre cose riceverete in cambio anche la possibilità di scegliere insieme a me i titoli dei prossimi video e per finire come sempre se volete che parli del vostro telefilm preferito scrivetemelo pure nei commenti